Protocollo di intesa tra Comune di Vittoria e Associazione Prometeo per istituire sei borse lavoro destinate a donne vittime di violenza. L'accordo è stato sottoscritto dall'assessore ai servizi sociali Daniela Barrano e dal presidente dell'associazione Luisa Iudice. Sulla scorta del progetto Ali di Farfalla, approvato dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'associazione offrirà al Comune la possibilità di fruire di sei borse lavoro a sostegno di altrettante donne vittime di violenza che siano residenti nel territorio comunale e che abbiano presentato formale denuncia. Il periodo di tirocinio previsto è di sei mesi, mentre il protocollo d'intesa avrà la durata di un anno.